Salvate i pesci rossi della vasca di Nettuno nella Villa Margherita. Tutta la storica aria verde versa nell'abbandono, le foglie secche invadono i suoi viali, ma ciò che ha attirato l'attenzione di alcuni abitanti del circondario sono le condizioni della vasca dove si trovano circa 200 pesci rossi. Purtroppo per loro il fango, la fitta vegetazione, le alghe hanno invaso gran parte della vasca divenendo sempre più opprimenti di questo passo. Alcuni frequentatori della villa temono che non ci sarà più speranza per questi poveri pesci destinati a morte certa. E peraltro nella vasca che circonda l'imponente statua di Nettuno, Dio del mare, un'ecatombe di pesci è proprio una circostanza paradossale da scongiurare. Come è noto, buona parte del verde pubblico cittadino, così come accade in altri comuni versa nell'abbandono, il comune non dispone di operai a sufficienza per poter far fronte dalla manutenzione ordinaria né e nelle condizioni di poter assumere nuovo personale. Negli anni passati la precedente amministrazione, Bonaccorsi, aveva cercato di ovviare a questo problema affidando in adozione alcune aree a verde, a private, a associazioni o singoli cittadini, pratica che poi non ha avuto più seguito ma che forse occorrerebbe che l'attuale amministrazione d'Anna rilanciasse, emanando nuovi bandi al fine di ottenere qualche beneficio anche minimo. Piano piano gli operai comunali asseguono la manutenzione di tutte le aree a verde, nei giorni scorsi è toccato al Parco Iungo, ma per quanto riguarda la Villa Margherita la situazione dei pesci è emergenziale e per questo occorrerà anticipare un intervento.